Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento sito a Pavia e qua ci troviamo in piazza Emanuele Filiberto Allora, l'appartamento è completamente da arredare Secondo piano c'è l'ascensore, all'incirca saranno 80 metri quadrati, quindi qua gli spazi sono molto ampi E' una palazzina dei primi anni venti Perfetto, allora dopo l'ingresso qua vediamo la cucina che è una bella cucina abitabile Ovviamente qua è tutta da arredare Gli infissi sono appena stati cambiati, quindi abbiamo tutti i doppi vetri e la facciata dell'immobile è stata ristrutturata completamente Ecco qua gli infissi, ok, sono questi Questa è direttamente su piazza Emanuele Filiberto Ok, dopo aver visto la cucina abitabile andiamo a vedere gli altri ambienti della casa Allora, qua anche le tapparelle sono state nuove Ovviamente la casa è completamente da imbiancare, sarà a spese di chi vi entra Perfetto, abbiamo questo bagno con vasca Ok, poi lì c'è l'attacco per la lavatrice Ok, abbiamo due balconi, questo qua è uno dei due balconi E' il balcone più piccolo, tenete conto che questi balconi sono balconi, tra virgolette, di bellezza Se uno fuma e vuole fumare una sigaretta, non vuole fumare all'interno della lavatrice, puoi farlo qua fuori Ok, primo dei due balconi e adesso dopo il bagno andiamo a vedere gli ultimi due ambienti Quindi che sono un ampio soggiorno e una camera da letto matrimoniale Ok, ritorniamo qua nell'ampio ingresso Ok, soggiorno ampio illuminato da due finestre Qua il riscaldamento è semicentralizzato, quindi pagherete in base a quello che andate a consumare L'acqua è condominiale, quindi è compresa nelle spese condominali Perfetto, adesso diamo un'occhiata al secondo balcone, che è il balcone tra virgolette più grande Anche qui, balconcino che dà direttamente sulla piazza, è un pelino più grande Però è sempre un balcone di bellezza Perfetto, adesso andiamo a dare un'occhiata alla camera da letto Camera da letto matrimoniale, non sono riuscito ad alzarvi la tapparella Perché lì abbiamo una tapparella elettrica e ovviamente qui, essendo disabitato, la luce l'hanno staccata Abbiamo a parte, spese in più, la luce dell'appartamento e il contatore del gas per il piano cottura Perfetto, allora, se vi interessa l'immobile potete chiamarmi al 339 19 16 332 Allegrone immobiliare Grazie 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 Grazie